Buongiorno e benvenuti in un nuovo study vlog Oggi è mercoledì 9 gennaio e sono le 7.10 della mattina Io mi sono svegliata alle 6 come al solito, come, diciamo, qua la maggior parte delle mattine E stamattina mi vedete così pimpante, così felice, anche se sono le 7 di mattina E soprattutto ho dormito tipo 5 ore per studiare Mi vedete così felice perché ieri è successa una cosa bellissima Di cui magari dopo vi parlerò più avanti nella giornata E quindi insomma sto ancora godendo del buon umore di ieri Che penso durerà ancora per molti giorni perché è una cosa veramente molto bella per me E anche per Alice, quindi dopo magari visto che siamo tutta la giornata insieme ve ne parliamo dopo Io stamattina mi sono appunto truccata e sistemata come al solito Perché avevo delle occhiaie, vi giuro, fino ai piedi e non per scherzare Cioè dico veramente seriamente E visto che so che tanto me lo chiederete, vi volevo far sapere che cosa avevo sulle labbra Perché questa gombola sto utilizzando un sacco L'ho utilizzata praticamente durante tutto il periodo delle vacanze di Natale Siccome secondo me è molto vincente, ve la consiglio se vi interessa Ho messo come rossetto di base, ovvero quello che colora principalmente le labbra I Roll Light Nude di Mulac, che è il mio nude preferito E poi ci ho messo accanto il, cioè sopra scusate, il Fenty Beauty In particolare il Fenty Glow di appunto Fenty Beauty Questi due insieme che sembrano fatti, cioè proprio nati per stare insieme Perché hanno la stessa colorazione di base Soltanto che appunto il gloss è un gloss e ha i brillantini Ma vi giuro che insieme stanno una bomba Vi fanno due canotti pazzeschi Comunque io devo andare all'università tra 20 minuti Oggi prendo la macchina perché piove E perché onestamente non mi va di camminare Nel senso sono un po' sprovata da questi ultimi giorni Quindi assolutamente macchina stamattina E quindi devo uscire tra una ventina di minuti O provare la borsa, eccetera Ho solo una lezione, fortunatamente perché gli altri due me le hanno annullate E dovrei tornare a casa per l'ora di pranzo Viene Alice a pranzare con me Perché dobbiamo lavorare tutto il pomeriggio insieme E questo più o meno è il programma della giornata E siccome è molto study oggi Cioè più che altro più che study è work Però fammo tutto nello stesso pentoloni E chi si è visto si è visto Faccio vedere l'outfit of the day Che non è niente di trascendentale Però comunque mi fa piacere Allora innanzitutto come potete vedere ho legato i capelli Perché vi giuro oggi non me li sopportavo davanti Sarà che sono un po' di giorni in cui è molto umido E me li sento spiaccicati qua davanti alla faccia Non ce la potevo fare anche oggi Vi giuro non mi andava Anche perché stasera li devo bene lavare e racconciare Perché domani è una cosa molto importante Che poi vi dirò sempre dopo E quindi insomma questo è Poi ho questo maglioncino di Pull&Bear Rosso che mi piace un sacco E sotto un altro maglione Perché ultimamente sono molto freddolosa E poi questi pantaloni che sono appunto a vita alta E sottometterò delle scarpe da ginnastica Perché come sapete io con gli stivali non so guidare Quindi sì questo è quanto Questa collanina è sempre della linea di Carla Che si chiama Miss Collection E nulla e questi sono di 9,25 se vi può interessare Sto decidendo che borsa utilizzare oggi Perché generalmente per l'università Utilizzo questa qui che è gigantesca di Zara Per mettere anche il computer Però siccome oggi non mi serve il computer Volevo portare questo Cioè usare scusate Questa qui di Longchamp Che ovviamente non è così piccola È solo chiusa Perché è veramente comoda E poi perché è impermeabile Quindi diciamo che col fatto che piove Ci va parecchio a braccetto Comunque adesso preparo la borsa E poi con calma Boh è da prima di Natale che non prendo la macchina Quindi spero che A non si sia scaricata la batteria B Io sappia ancora guidare Ok mi sono già Messa in macchina Messa la cintura C'è un tempo osceno Sta Diluviando Quindi Bene Però questo non potrà comunque spegnere Il mio Buon umore Quindi adesso vado a prendere Alice E poi ci va all'università Vi giuro Meno male che ho delle belle notizie Perché se no questo tempo A me mi avrebbe ammazzato Ma oggi no Non ci possiamo far scalfire Scalfire Scusate Adesso un po' così Da nulla Tempo osceno continuo Però noi abbiamo trovato parcheggio Sul posto bianco Quindi la mattina inizia bene Nonostante la pioggia E speriamo che questa fortuna continui Sempre benissimo Alice Sia con la coda che con i colori Voi non avete mai visto Alice con i colori E invece Con la mia felpa Con la mia fede No Stai benissimo anche così Sì adesso siamo tornate a casa Per aver finito la lezione È stata una lezione molto lunga Finalmente siamo tornate Abbiamo anche trovato Relativamente subito parcheggio Quindi ci possiamo ritenere fortunate Visto che l'ultima volta L'ho cercato per tipo 40 minuti Quindi Cioè Alice A me hai detto un'ora Quindi Ma che cosa che stavamo Meno drammatica Sì Vabbè era quasi un'ora Cioè diciamo che tra lì poi Sono uscita dalla macchina È stata un Si cala 25 minuti Calcando Due storie di lamento È stata un'ora Comunque Adesso pranziamo Perché ho una fame assurda Mezzogiorno e mezza Però noi come due galline Subito a mangiare Ma io due bimbo Sì infatti vabbè Lasciamo stare Insomma io parlo per me Le persone normali che mi seguono Non ho persone come te Guarda ti sta facendo un gestaccio E adesso penso che ci cuciniamo Cioè ci cuciniamo Cucino io qualcosa Una pasta Poi magari Se vogliamo fare qualche sugo particolare Non lo so E poi ci mettiamo al lavoro E vi diciamo un po' Quali sono state le novità E quello che dobbiamo fare anche per domani Perché io non ho detto nulla Aspettavo te Quindi capisci che amica Martina Vero Alice Ha preparato questa mitica pasta Con un sugo pronto Alla matriciana Quindi vi lascio immaginare Cosa stiamo mangiando Però abbiamo da lavorare Quindi va bene così Vero Alice Perfetto Dopo quella buonissima pasta Perché Alice vuole confermare Che era buonissima Ho anche preparato una piadina Con formaggio e speck Che è anche quella Discosso Grande successo Adesso ci stiamo per mettere Appunto a lavorare Anche Alice è qua davanti E Diciamo che Allora Gli volevo un po' Non possiamo dire nulla Perché ci stavo proprio pietato E l'ho anche detto ieri Nelle stories Quando questa cosa è successa E abbiamo un po' sclerato Aspetta che mi metto vicino a te Perché così vedono anche Due facce strane Che fa quando dico questa cosa Ok Questa cosa è successa ieri In realtà è stata tutta velocissima Sì Cioè abbiamo ricevuto Una nuova proposta di lavoro Lunedì Lunedì Però era una cosa molto accennata Non è che avevamo capito Se fosse Non seria Però come fosse Cioè diciamo Strutturata Fosse già sicuro Sì Poteva essere per noi Sì infatti Dobbiamo fare un colloquio Insomma non era ben chiaro Come funzionasse questa cosa Quindi noi ieri eravamo Piene di speranze Però insomma Senza neanche troppo aspettative In realtà ci stiamo andando Era una cosa molto Un colloquio Sì Tanto per Esatto Non lo so Invece alla fine Cioè La cosa è già iniziata Come se Noi facessimo parte Di questo progetto Sì già Parte del team E quindi siamo ritrovati A parte una quantità di lavoro Che Tipo da consegnare Tipo la prossima settimana E noi pensavamo Io per un po' di tempo Anche perché stiamo portando avanti Ovviamente la tesi Più tutti gli altri esami Che dobbiamo dare a febbraio Della sessione invernale Anzi a gennaio Due concorsi Due concorsi Perché abbiamo iniziato Uno in realtà Non iniziamo domani Uno l'abbiamo iniziato lunedì In più domani Le cose nostre Che quelle verranno nel 2019 Cioè nel 2019 Corrente anno Ma poi ve ne diremo Più domani Abbiamo la presentazione Di un progetto Che abbiamo fatto Importantissimo Cioè ci sono delle cose In palio Importanti E si ha un premio Proprio a livello di progetto Insomma di Come dire Di Cash Sì di cash Ma anche di Voglio dire Comunque Cioè Al di là di quello Più quello che poi Cioè Quindi la possibilità Di gestire questa cosa Continuare a gestirla Quindi un vero e proprio lavoro Dopo Insomma Sì Con cose importanti Insomma E quindi insomma Domani abbiamo questa cosa Importantissima Che non sappiamo come andrà Ovviamente il lavoro È già stato fatto Ma noi dobbiamo presentarlo Quindi comunque Ci dobbiamo anche mettere A ripeterlo a voce Insieme Perché siamo io E lei e Chiara E Chiara ce lo manda via Whatsapp E ritornando a quello di ieri Praticamente è successo Tutto in un attimo Ci hanno detto Sì Siamo già partendo con il lavoro E quindi oggi pomeriggio Dobbiamo fare tutto il tempo Questa cosa Partiamo dalla parte di ricerca E poi andremo sulla parte Un po' più Di ciccia Di pratica E vedremo quando dovremo Consegnare queste mille cose Non ci hanno detto ancora Detto la data È settimana prossima Ma non sappiamo Se lunedì o venerdì Che cambierebbe Perché tipo Cioè se è il tipo Lunedì O domani devo venire A vivere da te Fino a domenica sera Quindi il sabato E la mattina dopo Eri tranquilla Cioè Ce l'abbiamo saputa Alle 8 di sera Quindi tra le 11 Ho sclerato Poi sono addormentata E E' bevidente Io mezzanotte Forza non andò a dormire Quindi insomma Ho sclerato più stamattina Però adesso Ci dobbiamo mettere Alla volare Assolutamente Sì bene Amici Alice è ancora qui Batti un colpo Se ci sei Lì c'è ancora qui Stiamo ancora lavorando Sono le 5 e mezza E noi ci siamo messi a fare Questa cosa Che erano tipo le due Sì le due Sì tipo le due E non siamo Sapete che vuol dire Che abbiamo tipo 4 day in croce 8 8 Sì 8 Sì ma 8 per due cose Quindi 4 ciascuna E dovrebbero essere tipo Minimo 10 Poi ce le faremo venire E' abbastanza complicato Però interessante Dal luogo come sempre A grandi discussioni A momenti di sclero Tra me Mi siete persi Qualche minuto fa Il clou proprio E vabbè Nella serie veramente Io no Maria Io esco A un certo punto Guarda Eravamo proprio Sull'orlo E penso Proseguiremo così Per un'altra oretta E poi basta Perché Cioè saremo I sausti Anche perché Io mi devo fare La doccia E preparare L'outfit Per domani Vediamo se ci asce Un'idea bomba Alla fine Una e una Poi andiamo a casa Ok E in modo tale Che poi Ci tocciamo Entrambe E dobbiamo preparare L'outfit Coordinato Per domani Ah cavolo è vero Eh sì perché Sennò ci vestiamo Perché il rischio È che ci vestiamo Tutto e tre uguali Con colori che cozzano Soprattutto io e Chiara Perché lei va ben nero È evidente Però io e Chiara Che siamo due persone Molto colorate Rischiamo di metterci Con colori assurdi E meglio di no E Poi dobbiamo ripetere Un'altra volta Dobbiamo aspettare Che Chiara ci mandi il vocale Perché era ancora la lezione E poi che dobbiamo fare Un'altra cosa Dormire No Tocca a preparare la presentazione Ah no io so Ci dobbiamo vedere il film Oh Non so se ce la faccio Eh io per forza Perché dovete sapere Che il nostro professore Ci ha dato per venerdì Il professore di regia Ci ha dato per venerdì Guardare un film Di cui poi noi dovremmo Cioè Guardare il film di un genere Di cui poi noi dovremmo fare Un cortometraggio Di quel genere Non so se mi sono spiegata Beh sei fritta proprio Sì sto fritta Come non ci fossero domani E E quindi stasera Mi devo guardare Un film western Perché il mio genere È il western E il suo musical Quindi ci speriamo Molti In genere Cioè Casesco il musical E quindi Un po' più Beh io spero di vedere Ho capito Lui mi ha detto Sergio Leone Ma non c'è su Netflix Quindi Cercherò Una cosa Che abbia comunque Uno stile western Senza essere proprio Ambientato Nel vecchio west Sì E io Sono in vicino Se vedermi Se desanatomi Sì infatti Che poi uso io Copritta capito E essere proprio la voraccia Vabbè Esco il musical Alice è veramente Un voraccia Oppure la la land Grease Grease Struccarmi Poi ripeto Un po' La presentazione Fin quando Insomma Non raggiungo Il livello In cui non sbaglio Più Vedete presente Quando non c'è Nemmeno nessun M Questa mia mamma Che è andata A comprarmi una cosa E poi Mi faccio la doccia Perché poi devo fare Altre cose Mi ritrovate dove Vi avevo lasciati Infatti È passato un po' Dall'ultima ripresa Che ho fatto Sono le 8 di sera Io mi sono appena Finita di docciare E Mi sono anche un po' Piestrate i capelli In realtà Perché Domani mattina Mi devo svegliare Di nuovo alle 6 E non so se avrò Tempo di farlo Quindi comunque Li volevo già un pochino Più lisci Ciamo rispetto al mio solito E Adesso Prima di cena Ripeto un altro po' Di volte La presentazione Che ho già ripetuto prima Perché sento Di non saperla bene Questa cosa mi spaventa Quindi La devo ripetere ancora un po' E Poi devo ancora Decidere come vestirmi E preparo la borsa Per domani Naturalmente Ho super ansia Però Easy Calma Ormai tanto quello che è fatto È fatto E E poi cena Tra l'altro Mi ha preannunciato Questa terapia Moltsalmone per cena Che è tipo una delle mie cose Prefe della vita Quindi sono molto contenta E poi dopo cena Mi devo vedere Il film Ho deciso Che lo faccio Anche se non è un genere Il western Non è un genere Che mi piace Non solo come genere Ambientato Proprio in un determinato luogo Proprio in generale Non è che mi faccia impazzire Quindi non ho mai visto Il film The Eightful Eight Di Tarantino Ma è a colpa Perché comunque Tarantino è Tarantino Quindi lo vedrò stasera Dura tipo Dieci ore Quindi Non si sa Cora andrà a dormire Tra l'altro Devo anche prendere appunti Mentre lo guardo Quindi non è manco Una visione leggera Vabbè Vieni Il resto di una cosa Che mamma Ha fatto salata Salmone Burra Queste quattro E infine L'insalata di mare Che è uno dei miei Piatti preferiti Che mamma Ha preparato appositamente Per me Grazie mamma Ancora più coperta Di prima Adesso a guardare Il film E nel frattempo Prendo appunti Sulle scene Che devo segnarmi Per il cortometraggio Che devo girare Non so se ve l'ho detto Ma questa cosa serve A capire Quali sono I tratti Più importanti Insomma Le caratteristiche Di un genere E poi cercare Di riprodurlo Tramite un cortometraggio Che sarà naturalmente Infimo Di qualità Rispetto a Questo Che sto guardando Ok Io sto andando A letto Ho finito di vedere Il film O meglio L'ho finito di vedere Per questa sera Mi mancano 40 minuti Ma non ce la facevo più Troppo sonno Quindi adesso Crollo Sono le 11.40 Domani La sveglia alle 6 Quindi devo assolutamente Andare a dormire Non ce la faccio più Se vi interessa Sapere com'è Diciamo che io Non sono la persona giusta Nel senso che è un genere Su cui ho dei pregiudizi Sciocchi Me ne rendo totalmente conto Però purtroppo Sapete quando qualcosa Proprio a pelle Non vi piace Ecco Purtroppo è così Mi rendo conto Che è una cosa brutta Quindi Non è una cosa Che mi fa onore Però è un genere Proprio il genere Che a me non piace Non è Questo film Nello specifico Che in realtà È girato Cioè mi rendo conto A livello di regia È pazzesco È proprio Il problema è il contenuto Diciamo E in parte Non mi piace Insomma Le caratteristiche Proprio del genere western Che a me personalmente È un genere Che non riesco Ad amare la follia E nulla Io spero che questo vlog Vi sia piaciuto Spero che vi abbia Intrattenuto O perlomeno Tenuto compagnia Spero che non ci sia stato noioso E è stato tantissimo Stato di vlog Quindi spero ovviamente Che vi sia piaciuto Io vi mando un bacio Adesso Crollo Ciao